Eccolo qui i nostri nuovi amichetti meravigliosi, guardateli. Allora vi li presento, si chiama Axulut, è una salamandra di acqua dolce, viene dal Messico, è in via di estinzione nel suo abitato naturale, quindi necessita di un documento che attesta appunto la provenienza. Axulut deriva dal greco che significa mostro, ma lui non è per niente un mostro, invece è troppo bello. E qui abbiamo anche la rana albina, che è un'amica loro, gli dà un po' fastidio ma non succede niente, guardate che bello. La sua particolarità è che se si dovessero rompere questi ventaglietti che ha intorno al collo, oppure le zampe, la coda, si rigenera subito. Infatti questa è una cosa che stanno studiando, ma un'altra caratteristica di Axulut è che soltanto uno su un mille diventa adulto e esce quindi dall'acqua. E' una particolarità ed è per questo che lo chiamano l'eterno giovane, guardatelo un po' qui, è carino. Ecco quindi, vi farò vedere altri video mentre mangia, l'altro si è nascosto, vabbè. Comunque, che ne pensate? Frutto di un progetto?